di non avere mai più di 10-12 persone a turno, perché essendo da sola da insegnare preferisco lavorare sulla qualità che sulla quantità, quindi ci sono anche... E anche sull'interiorizzazione delle pratiche, penso, da parte dei ragazzi. Esattamente, e anche sul carattere delle persone. Purtroppo ti posso dire che è capitato in passato che le nostre discipline purtroppo attirino anche soggetti che... fascinorosi, mettiamo così. Io non è che gli espello alla prima cosa che fanno, io gli do la possibilità di cambiare, perché comunque deve essere anche una cosa educativa la nostra, oltre che mirare alla difesa personale. Io ti dico determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, se vuoi stare qui non vanno bene. Purtroppo spesso, se hai visto che sono i soggetti stessi che ti dicono se mi parli di regole e di rispetto allora questo ambiente non fa per me, me ne vado. Dico perfetto, guarda, la porta che vuole uscire è sempre aperta. Se uno cambia mentalità per tornare è una sua volta aperta, però ci sono delle cose ben precise su cui non transigo, ecco. Grazie.